chi comincia? Prego. Buonasera mister. Buonasera. Per la qualificazione. Volevo chiedere l'aspetto che più le è piaciuto della squadra stasera che presentava tanti volti nuovi tutti insieme per la prima volta e quello che invece sul quale magari c'è qualcosa da rivedere. Magari il primo tempo la squadra è sembrata un po' andate un po' a strappi. Poco costante nel possesso. L'aspetto è stato l'approccio iniziale. Primi venti minuti dove abbiamo fatto gol, abbiamo difesa in avanti siamo stati sempre nella metà campo avversaria. È anche vero che siamo stati leziosi perché era una partita pericolosa per per l'avversario che è una squadra di ottimo livello di serie B ed era una partita da chiudere nei primi venti minuti cosa che non abbiamo fatto perché ripeto siamo stati leziosi. È chiaro che questo diciamo è stato l'aspetto negativo e chiaramente qualche piccolo problema tattico ce l'abbiamo avuto anche perché c'era tanti giocatori nuovi che avevano giocato un po' meno durante l'anno. Buonasera. Le volevo chiedere nulla togliendo diciamo alla persona o alle caratteristiche diciamo che ha avuto ma maggio in una squadra che gioca a tre tocchi non avendo una grande sensibilità di piede toccando la valla tre o quattro volte non ha dato difficoltà il Napoli sulla linea da qual punto di vista? Ma direi che che più problema di maggio è stato che gli abbiamo dato meno soluzioni meno meno linee di passaggio perché era chiaro che avevamo qualche difficoltà sotto questo aspetto maggio poi un difensore ha fatto un'ottima partita a livello difensivo quando c'è stata possibilità si è inserito l'ha fatto anche bene coi tempi giusti ripeto specialmente quando ha giocato la parte della panchina si vedeva chiaramente che aveva poche linee di passaggio per cui non è stato messo nelle migliori condizioni di giocare la palla a pochi tocchi perché non aveva soluzioni a sufficienza. Mister buonasera. Buonasera. Volevo sapere come sta la squadra in questo momento dal punto di vista atletico se ho chiesto la stessa cosa anche al mister Di Carlo come aveva visto il Napoli cioè è una squadra un po' appesantita dalla ripresa della preparazione oppure stasera era un po' caratterialmente meno mordace di altre volte visto anche l'impegno? No la squadra fisicamente sta benissimo per quanto riguarda qualche seduta in più che abbiamo fatto durante la pausa natalizia è stata è stato solamente per un discorso tattico i carichi di lavoro sono stati soliti e il fatto che la squadra domenica passata ha avuto i dati fisici migliori della stagione dimostra che la squadra sta bene magari correndo meno bene del solito però i dati fisici sono confortanti perché ripeto sono stati migliori della stagione. sicuramente a livello tattico non siamo stati perfetti contro la Sampdoria per cui non abbiamo fatto una partita diciamo tatticamente bella va bene però il dispendio di energie è stato importante e sotto questo aspetto vuol dire che la squadra sta bene perché ripeto per l'ennesima volta che i dati fisici sono i migliori dell'annata ecco qua buonasera buonasera mister sul campo se hanno dato qualche miglioramento rispetto a sabato e poi su zelischi se può fare il vice am sic se lui e rog insomma sono davvero due jolly a lì a centrocampo zelischi sta dimostrando di essere un giocatore da napoli e ha già due campionati di di serie alle spalle per cui è più avanti per conoscenze di di rog sicuramente può fare il vice am sic può fare tranquillamente il vice allan è un giocatore importantissimo per il napoli per quanto riguarda marco marco ha un percorso diverso viene da un campionato sicuramente non di di non primissimo ordine è arrivato una squadra diciamo importante e poi ha avuto anche il problema della lingua però è ragazzo che ha fatto dei miglioramenti importanti da quando è arrivata oggi campo era leggermente meglio che che dell'ultima partita ma sicuramente non è nelle migliori condizioni va bene così grazie no un attimo un attimo un attimo le domande si si fanno alzando la mano e poi prendendo la parola no solo come sta strinic visto che l'abbiamo visto uscire dal campo un po in condizioni precari no strinici si è fermato in tempo ha sentito un indurimento un indurimento e ha chiesto subito la sostituzione per non peggiorare la situazione semplicemente chiedevo se lei mister sari preferite la fiorentino il chievo come avversario assolutamente non abbiamo pensato a tutto questo grazie arrivederci